Si snellisce la procedura di contestazione degli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate per le controversie che non superano i 20.000 euro. Tra contribuente e amministrazione finanziaria si staura così un vero e proprio confronto preliminare in grado di portare ad un accordo con la possibile riduzione delle sanzioni fino al 40%. Se il contribuente riceve un accertamento, un avviso di liquidazione, una cartella di pagamenti con la presentazione del reclamo non rischia più come nel passato l'inammissibilità ma può sempre ricorrere al diritto di difesa. Dalla presentazione del reclamo devono trascorrere 90 giorni prima dell'inizio del giudizio ma durante la fase di mediazione sono sospesi gli obblighi di pagamento derivati dall'atto impugnato. La mediazione produce effetti anche rispetto ai contributi previdenziali e assistenziali per i quali non sono dovuti né interessi né sanzioni.